Buongiorno Marco, ben trovato. Ciao Francesco, buongiorno anche a te. E che ha avuto anche una propagine in Europa e anche in Italia dove esiste una comunità che si riconosce intorno a questo sito web e a queste pagine social che si chiamano Made in Italy. Cosa dice Robert Whitecker e cosa dicono i suoi pigoni sostenitori sparsi per il mondo? Che in pratica siccome i disturbi mentali sono frutto di questioni relazionali, questioni sociali e quant'altro, non servono gli psicofarmaci per curare le malattie mentali, ma ci vuole dell'altro. Non solo, ma che gli psicofarmaci si usano in quanto la psichiatria è in pratica tutta venduta alle case farmaceutiche che conseguentemente spingono per l'uso di queste sostanze che fondamentalmente fanno solo male. Allora, la domanda è duplice. Da un lato, ma fanno male gli psicofarmaci? E dall'altra, ma è possibile una psichiatria senza psicofarmaci? Aggiungo, ma questa è una mia considerazione, che è esistita per tantissimo tempo una psichiatria senza psicofarmaci e il risultato fondamentalmente sono stati i manicomi, gli ospizi, i luoghi dove le persone affette specialmente da gravi disturbi mentali venivano chiuse, raccolte, accolte a seconda di come vogliamo leggere la cosa. Ma certamente senza psicofarmaci questo è accaduto e aggiungo anche che senza gli psicofarmaci probabilmente la riforma psichiatrica italiana, anzi certamente la riforma psichiatrica italiana non avrebbe avuto senso in quanto l'uso degli psicofarmaci ha portato una contraddizione all'interno dei manicomi che non avevano più questa funzione di custodia in quanto, diciamo, i malati con gli psicofarmaci stavano meglio. Ecco, ho fatto una premessa un po' più lunga del solito perché volevo esprimere la mia opinione e introdurti a questo tema. Può esistere allora una psichiatria senza psicofarmaci, Marco? Beh, questa è una domanda molto importante perché come hai detto tu questo è un argomento delicato che si presta a dibattiti a volte accesi e perché no, diciamo, anche a una certa dose di ideologia. Inizio con un aneddoto perché quando tu hai introdotto e citato Waytaker, io ho conosciuto Waytaker nel senso che un po' di anni fa è venuto a Genova e ha tenuto un suo seminario e io sono stato invitato come CERN a questo seminario proprio perché i colleghi conoscono la mia esperienza nei trattamenti farmacologici. A una mia domanda di quali erano, insomma, le prove a sostegno di questa teoria e cioè che gli psicoarmaci non servono, una delle prove che Waytaker in quell'occasione ha portato era che poiché negli Stati Uniti, il luogo dove lui ha studiato e lavora, ci sono oggi molte più pensioni di invalidità per malattia psichiatrica che negli anni 50, questa è la dimostrazione che 50 anni di psicofarmaci non hanno ridotto l'incidenza di malattia. Allora, gli ho detto nella mia controreplica, ho detto che, insomma, sarebbe un po' come dire che poiché oggi negli Stati Uniti ci sono molti più divorzi, dobbiamo sostenere che, per esempio, che ne so, il benessere americano, come dire, induce al divorzio. Ecco, una cosa di questo tipo, cioè è un tipo di ragionamento che è un po' viziato da un problema di fondo. Non c'è un rapporto lineare tra l'utilizzo delle terapie, per esempio l'incidenza delle malattie, perché, come hai detto giustamente tu, stiamo parlando di malattie complesse, cioè multideterminate. Allora, cerchiamo di tornare coi piedi per terra. Gli psicofarmaci sono uno strumento, e sono uno strumento che ha sicuramente negli ultimi 50 anni cambiato il trattamento delle malattie mentali. Chiunque abbia lavorato in clinica ricorda che ha qualche anno in più qual era la condizione dei malati prima degli anni 50, in assenza di trattamenti di dimostrata efficacia, secondo dei criteri evidence-based, e che cosa è stata la vita per molte persone. Non penso solo ai pazienti psicotici, penso ai pazienti depressi, ai pazienti affetti dai disturbi d'ansia. Quindi è in dubbio oggi, dopo oramai, diciamo, 70 anni di esperienza, perché questa è un po' la storia della psicofarmacologia moderna, che, usato in maniera appropriata, i farmaci hanno cambiato il destino e la vita in meglio di milioni di persone nel mondo. Detto questo, il carico di ideologia da cosa nasce? Nasce da due aspetti, secondo me. Dal primo, e cioè un'idea di fondo, che le malattie psichiatriche non siano vere malattie, cioè siano conseguenze, reazioni a fattori ambientali sfavorevoli. Tu hai fatto l'esempio dei fattori sociali, potremmo, a seconda delle epoche storiche, l'attenzione si è spostata dalle relazioni familiari, alle relazioni ambientali, all'impatto sociale e così via. Ma oggi la medicina ha superato queste visioni, passami il termine, riduzionistiche, in cui si pensa che ci sia un fattore determinante. Allora, chi pensa che siano i fattori sociali, spiega tutto con i fattori sociali. Chi pensa che sia un problema di relazioni disturbate nell'infanzia, tutto spiega con quello. Chi pensa che sia solo un problema genetico-biologico, ha un riduzionismo di tipo biologista. Oggi sappiamo che le malattie complesse, in medicina, non in psichiatria, sono malattie che riconoscono fattori di vulnerabilità, certo su base genetica, e fattori ambientali che sono fondamentali nell'insorgenza delle malattie. In questo la psichiatria si è avvicinata molto, anzi, oserei dire che questo è quello che negli ultimi anni l'ha avvicinata di più al resto della medicina. E quindi, se noi abbracciamo questo modello, nessuna malattia che io conosca, neanche quella col carico genetico più forte, gli studi sui gemelli lo dimostrano, è una malattia ereditaria e quindi come tale, diciamo, biologicamente determinata. Certo che i fattori ambientali contano, ma, diavolo, una malattia mentale grave, una depressione melanconica, una psicosi, una malattia manicodepressiva, pensare che siano solo il risultato di fattori ambientali, beh, lo dimostra dal fatto che a volte nella stessa famiglia, nelle stesse condizioni educative e socio-economiche, noi abbiamo un soggetto malato e un soggetto che ha una vita assolutamente normale, ha dimostrazione che i fattori ambientali non bastano. Gli psicofarmici agiscono su dei fattori di vulnerabilità. Come tutte le terapie al mondo hanno delle indicazioni, dei dosaggi minimi e massimi, hanno dei tempi di somministrazione, quindi vanno usati con certi criteri, che sono criteri che nascono dalla ricerca, dalla ricerca scientifica. È chiaro che se il mio approccio, invece, è un approccio così riduzionistico, e proverò, cercherò delle conferme, come può fare Tacker, alla mia tesi di base, cioè dimostrare che non stiamo parlando di vere malattie. Quando tu parlavi prima di, come dire, la fiducia nei fattori ambientali, io uso sempre questo tipo di paragone, che serve anche a far comprendere ai pazienti quello che sta dicendo in maniera più semplice. Pensate davvero che la cura del diabete sia somministrare insulina, o che trattare un iperteso voglia dire dare un farmaco ipertensivo? Certamente no. Stiamo parlando di malattie che necessitano degli interventi farmacologici nelle forme gravi, ma contemporaneamente modifiche profonde sullo stile, per esempio, di vita. Un diabetico che non fa una dieta adeguata, non fa attività fisica, raramente troverà un compenso. Allora, questo ci autorizza a dire che l'insulina nel diabete non serva a nulla, anzi, ha peggiorato il decorso del diabete? O ci autorizza a dire che i farmaci ipertensivi sono qualcosa che non serve, perché bisogna curare tutti con la dieta? Certo, ci saranno ipertesi dove uno stile di vita adeguato sarà sufficiente, non necessiterà di terapie farmacologiche, ma ci sono pazienti gravi che dovranno per tutta la vita curarsi. Allora, questo approccio alla complessità, secondo me è assolutamente applicabile in psichiatria. Quindi i psicofarmaci, per rispondere alla tua domanda, servono, servono per curare delle malattie, certamente le malattie devono essere diagnosticate, e all'interno di un approccio globale devono essere integrati a degli interventi che agiscono anche sui fattori ambientali. Quindi anche i trattamenti devono essere trattamenti complessi e non. Certo, se noi pensiamo di curare un paziente grave solo dando delle medicine nulla più e non curando i fattori di rischio ambientale, è come trattare un diabetico convinti che basti dare l'insulina, la partita finisce lì, ogni iperteso che continua a mangiare salato. Faccio un esempio molto banale, ma penso che sia comprensibile per tutti. Concludo questo primo intervento dicendo che il livello di stigma, se ci pensi un attimo, è già insito nel termine psicofarmaci. Non parliamo di cardiofarmaci, di pneumofarmaci o di gastrofarmaci. L'unico suffisso che è rimasto in medicina è quello psico. Ecco, penso che i tempi oramai siano maturi per parlare di farmaci in psichiatria e non di psicofarmaci, che è un termine che secondo me è ancora carico di stigma. Ecco però, Marco, una cosa che mi colpisce, io concordo completamente in quello che tu hai detto, mi colpisce il fatto che a questo movimento anti-psicofarmaci aderiscono anche, non tantissimi, ma parecchi psichiatri. Ecco, la domanda che sorge spontanea è sono stati illuminati sulla via di Damasco e allora noi non capiamo nulla? Oppure sono pieni di sensi di colpa? La mia formazione psicodinamica mi porta a pormi anche questa domanda, no? E trovano nella, come dire, nella negazione dell'uso degli psicofarmaci e nell'affermazione che si usano in maniera sbagliata e perché tutta la psichiatria è venduta alle case farmaceutiche, ecco, mi sembra che ci possa anche stare. Qual è la tua opinione sulle ragioni per le quali al movimento di White Tech o a movimenti similari che sono sparsi per il mondo come dire, aderiscano spesso in maniera molto violenta dei colleghi? Beh, i due fattori che tu hai già citato nella domanda implicitamente mi passano, diciamo, un assist per la risposta perché condivido pienamente. Uno dei nostri maestri, il professor Rossi, avrebbe detto che gli psichiatri, ahimè, hanno scelto una professione per gestire i loro propri sensi di colpa e quindi certamente c'è anche una componente legata all'imbarazzo che ha la psichiatria, pur rivendicando un ingresso nella medicina da oramai decenni, l'imbarazzo di non sentirsi una disciplina come tutte le altre. È vero che la psichiatria ha profonde radici nella cultura umanistica e difende la sua componente relazionale e secondo me questo è un valore aggiunto non è un difetto della psichiatria e oggi si rivendica come valore aggiunto ma questo non ci autorizza a dire che oramai gli strumenti che abbiamo ci tengano così lontano dal recinto della medicina ufficiale quindi penso che davvero abbia a che fare con i sensi di colpa storici della psichiatria ma forse è più interessante il secondo aspetto che tu hai detto cioè interessante nel senso che è più diffusa come preconcetto gli psicofarmaci sono tra virgolette l'uso improprio degli psicofarmaci è indotto dalle case farmaceutiche allora chi lavora da tanti anni sa benissimo che abbiamo attraversato periodi storici in cui c'è stato diciamo delle profonde operazioni di marketing nel campo farmaceutico per cercare di diciamo in qualche maniera condizionare la scelta e l'utilizzo da parte dei psichiatri e abbiamo pagato forse nel nostro paese una carenza di una ricerca indipendente come diciamo tutti rivendichiamo come garanzia per poter contrastare per esempio una ricerca basata su ricerche sponsorizzate nella stragrande maggioranza dei casi ma io devo dire che nella mia esperienza chi si occupa seriamente di psicofarmaci che vuol dire accompagna il proprio lavoro di ricerca ha anche un'attività clinica diciamo importante è abbastanza immunizzato rispetto a questi rischi cioè consapevole del divario che c'è tra un'operazione di marketing e quello che la clinica offre e ha come obiettivo fondamentalmente poi di curare dei malati di fare le stelle meglio lo dico in maniera non ideologica lo dico in maniera clinica molto spesso chi è spaventato da questo connubio e cioè sponsorizzazioni diciamo e cattivo uso spesso non è un clinico esperto in psicofarmaci questa è la realtà nel senso che non ha gli strumenti per poter contrastare questo tipo di informazioni aggiungo un altro aspetto di cui abbiamo parlato in altre occasioni è che va contro questa visione diciamo un po' pessimistica dell'influenza delle case farmaceutiche forse non tutti i non addetti ai lavori non sanno che in psichiatria c'è stata una riduzione drastica di finanziamenti da parte delle case farmaceutiche negli ultimi anni che ha ridotto drasticamente la disponibilità di nuovi farmaci sicuramente di farmaci innovativi questo contrasta con l'idea che sia un terreno così appetibile per le case farmaceutiche e ci sia un'induzione o un uso improprio perché c'è questa riduzione? proprio perché la psichiatria da questo punto di vista è una disciplina in realtà piuttosto conservatrice e non apre volentieri a trattamenti innovativi a tal punto che è considerata dalla stragrande maggioranza delle case farmaceutiche un campo diciamo non così appetibile allora questo per dire che in realtà oggi siamo molto più esposti a carenza di risorse a carenza di ricerca e questo si traduce in carenza di farmaci innovativi per i nostri pazienti di cui c'è ancora grande bisogno quindi io non sento francamente oggi questo rischio di operazioni di marghi forse negli anni 90 questo era un problema esistente oggi abbiamo il problema opposto abbiamo l'abbandono della psichiatria di molte case farmaceutiche che si traduce in ricerca che viene meno per cui abbiamo bisogno in realtà in questo momento di grandi finanziamenti per poter avere farmaci innovativi perché sebbene le nostre terapie curano per fortuna la stragrande maggioranza dei pazienti in maniera appropriata abbiamo una quota di pazienti che ancora non risponde ai trattamenti di cui abbiamo di bosioni avremo bisogno di farmaci nuovi quindi io penso che i colleghi che aderiscono a questo diciamo o sono psichiatri che non si occupano di farmaci in maniera specifica o hanno un approccio ideologico che nasce da tra virgolette quello che c'eravamo all'inizio avrebbero passato epoche storiche in cui forse questa vicenda era sentita in maniera in maniera diversa da oggi allora Marco ti ringrazio come sempre per la tua chiarezza credo che sia estremamente importante lasciamelo dire alla fine di questo nostro incontro mattutino credo che sia estremamente importante che questi nostri incontri diano delle risposte chiare si può anche non essere d'accordo con quanto noi diciamo a volte ma l'importante è essere chiare e credo che assolutamente non si possa dire che il tuo intervento di oggi non sia stato chiaro grazie alla prossima grazie a te e buongiorno